non so cosa facciamo no no certo certo Grazie a tutti. E ne ho volute fare un po'. Ok, ma va benissimo. Poi adesso ne do l'indirizzo. Eccola il sindaco. E sì. Aspetta. Dov'è? Dov'è? Stefano. Stefano. Stefano, senza lo zio. E lo zio? Ah, tutti. E certo. Certo. No, com'è che è? Sei tu. Sì. Certo, un configuration. Forza, come sono belle. Chiedi qua. Tra niente, devono. Vedi, vedi. Vedi, 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 come oggetto di etaccia. Sei tu.it. Bravo. Adesso ce la fa pure il nostro. Ti penso, mi trovi in mente quella scena. Di? Il tuo marito che vola in acqua è il giorno del tuo matrimonio. Ok. Ehi! Ehi! Ragazzi! Adesso! Una foto! Facciamo tutti! Perché abbiamo finito in festa! Fa cosa del genere! Auguri! Auguri Veronica! Non ho letto! Scusa! Auguri! Che bello! C'è una foto! Está bello! Io adrata il giorno! E io vi! Io invece è in paura! Sì, sì no! E io! Sì! 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 Dì! Sì!